gentili telespettatori buona giornata i contagi salgono di giorno in giorno ma ci sarà un picco un punto massimo per poi una discesa a natale sono previsti 30.000 contagi al giorno questo lo avevamo già detto qualche settimana fa sono calcoli matematico statistici delle previsioni numeriche non delle previsioni fatte a cacchio ma sono delle previsioni fatte in maniera scientifica naturalmente hanno delle variabili di errori delle variabili anche impreviste che possono cambiare questi risultati possono essere più alti o più bassi nel prossimo mese sempre i calcoli matematico statistici non prevedono nessuna in questo mese nessuna regione in zona arancione rossa sono però previsioni dicono che le vaccinazioni le misure di contenimento funzionano ma sale il numero dei contagi non accenna a fermarsi il picco viene previsto proprio in vista del natale a dirlo è giorgio sestili fisico divulgatore scientifico che ha analizzato l'evoluzione delle curve dei dati dell'epidemia e ha fatto qualche calcolo siamo ancora nella fase di crescita nella fase di toro come si dice in borsa dell'espansione questa crescita però sta rallentando settimana dopo settimana spiega l'esperto per rendersi conto del rallentamento della crescita basta guardare i dati se a novembre erano del 50 per cento era del 50 per cento e poi passata al 25 per arrivare adesso nell'ultima settimana al 13 per cento ed ecco che si stieli svela quanto ci sarà il picco stiamo raggiungendo il picco dei contagi a natale che saranno circa 30 mila ma cosa succede dopo il picco quando si scavalca o si scavalla quello che accadrà dopo questa data non è ancora del tutto certo ci possono essere due conseguenze restare per lungo tempo nel plateau cosa vuol dire si arriva a 30 e si rimane a 30 un po si veleggia e si continua su quella cifra senza aumenti né decrescita oppure una discesa con velocità variabile nel secondo caso la velocità variabile di discesa dipenderà prima di tutto dall'andamento delle vaccinazioni nell'ultima settimana sono state somministrate 3 milioni di terze dosi al ritmo di quasi 500 mila al giorno è stata correlata a questo la diminuzione della crescita dei casi di positività ha precisato l'esperto ma potrebbe dipendere anche da quali misure contenitive verranno decise inserire le regioni nelle zone gialle vuol dire mettere in sicurezza sono importanti le misure di contenimento comunque l'effetto dei vaccini si vede ancora meglio andando ad analizzare l'impatto che hanno avuto sugli ospedali oggi dice se stili rispetto all'anno scorso a parità di numeri di casi positivi il tasso di letti occupati nei reparti di terapia intensiva è 6-7 volte inferiore ma non solo dice prendendo ad esempio un mese campione 15 ottobre 14 novembre dai dati dell'ISS istituto superiore di sanità il rapporto tra i ricoverati in terapia intensiva vaccinati non vaccinati era di 1 a 4 132 contro 546 vero è che le terapie intensiva nell'ultima settimana sono aumentate del 15 per cento ma comunque in misura decisamente inferiore se confrontate con le settimane precedenti e poi aggiunge che tra pochi giorni dovremmo quindi raggiungere il picco anche delle terapie intensive lo stesso si può dire anche per l'evoluzione di altre curve anche dice come detto in precedenza anche il numero delle terapie intensive dipenderà molto dalle vaccinazioni infatti come riporta se stili nelle ultime settimane il numero aggiunge delle prime dosi è aumentato del 20 per cento più 230 mila ovvero quasi un milione nell'ultimo mese vuol dire che tra i non vaccinati sta cambiando qualcosa non era scontato in particolare si stanno vaccinando tanto tra i 19 e i 29 anni a breve poi cominceranno anche le vaccinazioni dei bambini continuando con questo ritmo potremmo passare un inverno tranquillo con un'epidemia sotto controllo l'esperto ha infine fatto una previsione su cosa ci aspetterà nel futuro prossimo dice posso dire che nel prossimo mese nessuna regione andrà in zona arancione o rossa beh speriamo che sia che sia così che sia davvero e realmente così intanto cambiando notizia calenda dice che non c'è nessuna esigenza di avere i 5 stelle in italia in italia che di maio è assolutamente inutile dice non esistono più mi piacerebbe fare un confronto con loro ma non ci si riesce mai non credo che ci sia nessuna esigenza dei 5 stelle in italia penso che prima luigi di maio nella versione gile giallo fosse inutile dannoso ora è solo inutile prima era anche dannoso inutile oggi è solo inutile perché dobbiamo avere i 5 stelle se lo chiede al programma di radio 1 zapping dice carlo calenda dobbiamo avere i 5 stelle perché sono in tanti ad averli votati dice beh sì in questo parlamento dice calenda nelle ultime amministrative però tutte le loro liste nei capoluoghi di provincia hanno preso meno voti della mia lista a roma allora il commentatore radiofonico dice ma allora secondo lei non ci può essere un campo largo se dentro ci sono i 5 stelle e lui dice no 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 taglia corto e poi spiega e poi loro non esistono più hanno un pezzo di conte che si ode con di maio grillo che bastona conte mi piacerebbe fare un confronto con loro ma non ci si riesce mai e dice ma allora lei calenda con chi si alleerebbe dice penso che ci voglia un'alleanza larghissima ma una cosa è un'alleanza di governo come quella in cui siamo oggi un'altra è un'alleanza politica che replichi il modello delle alleanze contro col comune denominatore contro la destra o la sinistra bene sull'unito l'inutilità di di maio povero gigine povere gigine va insomma allora io vi ringrazio per avermi ascoltato non 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 ascoltato ma ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata buon inizio di lavoro chi comincia a lavorare buon fine di lavoro chi finisce buona domenica come cantava qualcuno no vi ricordate buona domenica anche se ormai andiamo verso la sera il crepuscolo vabbè a parte gli scherzi crepuscolo o no ci vediamo se volete tra una ventina di minuti per un altro video qua sul canale grazie nuovamente e buona giornata